Ciao a tutti ragazzoli se sono Antonio di Milione e oggi siamo qui su Black Ops 2 con il ferme. Siamo in questo video per farvi vedere l'Ester Egg di Nuketan 2025. Per farlo dovete togliere le teste a tutti i manichini della mappa nel più breve tempo possibile. Speriamo che questa volta se la facciamo. Non è che non funzioni il bug, ma è più bello che non facciamo un tempo, quindi vediamo tutti la facciamo. Fagliela saltare completamente la testa. Cioè gliela devi proprio levare perché certe volte resta vicino al muro, è come se gli stessi ancora addosso. Capi? non ci sono. Ok. Ok, no. Vedete il codice del diritto. Sì, no, no. fatto. Sì, no, no, no. Sì, no, 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 no. Fatto. Sì, no. Sì, no. Sì, sì. nuovo dai cazzo e funziona perché non va dio santo del buon signore secondo me io non lo posso rifare ma non penso che sarà una cosa di cosa ne manca tu e l'hai fin dato e sicuramente eccolo 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 non sono riusciti e c'è il mio cugino che viene a rompere i coglioni adesso sta giocando hiperman oh mio dio attenzione voglio far notare che hiperman adesso è invincibile guardate lo sparo ma non crepa nooo sono morto e ti togli un scattolo dai fammi giocare anche a me e fagli vedere dai si un attimo l'ultima partita però non capisco perchè si vede lo schema con la scritta activizza come solito si dovrebbe togliere questa fottuta scritta di merda dai ma ci sono altri giochi ma ci sono altri giochi si comunque si dovevano fare anche quei due fuori dalla mappa forse ecco perchè ecco qui ragazzi ecco qui ragazzi attenzione vediamo se riusciamo a fare questo su tutto livello aiuto no sono morto cambiamo il giochino proviamo questo che non ho capito come cazzo si gioca no sono morto come cazzo ma non capisco dai 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 e poi vi lascio no sono morto ok questo era l'ultimo giochino ed ecco qui sono morto scusate mi ha ucciso no vabbè ed ecco qui questo è l'aster egg giocando le partite io sono fottutissimo giochini arcade guardate guardatevi per me non muore lo scopio di una granata è praticamente in nooo vedete che è morto non è morto non muore vabbè ragazzi questo era l'aster egg di newket town 2025 spero spero che vi sia piaciuto se vi è piaciuto mettete mi piace commentate se non riuscite a farlo ma penso che ci riuscirete e se lo avete fatto iscrivetevi al canale e vi lascio con una bella partita a questo giochino ciao al prossimo video wooo ciao 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 ciao